Scampia è un quartiere che con un movimento dal basso forte si è riscattato, tante associazioni, tanti movimenti, tanti comitati, un bel lavoro devo dire anche con noi, noi ci siamo sempre stati e questa è la Napoli che vogliamo, una Napoli che si sta riscattando da sola e oggi si è voluto dimostrare, raccontare e far vedere al Presidente della Camera che esiste questa Scampia, esiste questa Napoli che prima o poi anche il Governo dovrà vedere, quindi la richiesta non è il cappello in mano, il piagnisteo, il lamento, semplicemente avere quello che compete ad altri dare, politiche industriali, politiche del lavoro, risorse economiche, tutto questo non c'è stato, io faccio un bilancio di questi 5 anni, però c'è stata tanta umanità, tanto riscatto, tanto impegno civile, tanto amore per il bene comune e tanto confronto, tanto dialogo e tanto lavoro insieme e questo credo che sia il messaggio più bello che è stato consegnato oggi al Presidente Boldrini qui da una delle realtà a Scampia che ha raccolto la rete di tutte le associazioni ai quali io non finirò mai di ringraziare per il lavoro enorme che fanno per la nostra città. Ci ha parlato anche del piano per le vele, c'è stato anche l'incontro con il comitato, lei ha detto che il comune ha presentato il piano, ci ha aspettato? Sì, noi là stiamo per chiudere il protocollo, il Presidente della Camera se ci dà una mano si possono accelerare i tempi, è un lavoro straordinario che è stato fatto tra il comune di Napoli, il Dipartimento di Architettura, il Demanio, il comitato vele, quindi insieme ai cittadini, ecco questa è la vera novità, da Bagnoli a Scampia i progetti si fanno insieme, si fanno con i cittadini, sono progetti di qualità, con divisi partecipati che vengono sottoposti all'attenzione laddove necessario come Bagnoli e Scampia per le vele al governo. Non costano nemmeno molto, questi sarebbero i fatti concreti di cui la città ha bisogno come diritto, non come favore o piacere, quindi noi l'abbiamo sempre detto, noi non cerchiamo né i grandi eventi, né l'expo, né altro, noi abbiamo il nostro territorio che vogliamo valorizzare, il progetto sulle vele è un progetto molto bello, attendiamo il sì definitivo a gennaio, speriamo che in questo caso il governo mantenga gli impegni.